we non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xiodarone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xiodar e ragazzi le vacanze sono finite no ragazzi non per voi sono finite ma sono finite per lo staff di epic games oggi è il primo giorno di rientro di tutto il team grafico il team del gameplay il team del codice insomma al 100% di nuovo attivo tutto lo staff di epic games il che vuol dire che siamo pronti a ricevere la nuova patch dopo due settimane che vedrà l'inserimento di tutto quello che sarà necessario sapere per il termine di questa season numero 9 vi ricordo che la season ufficialmente finisce il 24 luglio ma in realtà la numero 10 inizierà il primo agosto quindi staremo a vedere che cosa verrà inserito in quel lasso di tempo dove c'è un buco nel video di oggi ragazzi però vi aggiorno innanzitutto su quello che è il gameplay dell'air strike l'ultima arma nuova che verrà inserita in questa season quindi la granata aerea o perlomeno così si pensa che arrivi intorno alla settimana numero 10 o poco dopo in poche parole forse questa settimana ma anche delle novità per quello che riguarda il robot l'evento che adesso siamo tutti pronti a vedere oltre a dirvi alcune informazioni sui pezzi mancanti vi farò vedere anche un'immagine caricata proprio ieri dal team di epic da quelli che erano rimasti che indica la partenza del countdown e ovviamente ragazzi un bel po di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite prima però volevo ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator xiodarone grazie di cuore ragazzi per crederci in questo canale per supportarmi quando scioppazzate di prepotenza mi raccomando dove a cavolo è finita non dimenticate di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima la domandina raga la domandina ve la devo fare mi rispondete sempre in tantissimi e mi piace un sacco leggere i vostri commenti qua sotto domanda di oggi secca qual è stata la tua skin preferita della 14 giorni d'estate oggi termina anche questo evento chiamiamolo così questa sessione di 14 giorni dove siamo stati inondati letteralmente da premi skin dei materiali nel negozio picconi insomma ragazzi la tua skin preferita però qual è di tutte quelle che ci sono state la mia ragazzi sono tutte belle ma la mia è doppio gioco mi piace davvero tantissimo ci sta un botto anche la sua copertura è veramente OP e quindi ragazzi direi che è la mia preferita ma quindi ciancio le bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere un secondo gli aggiornamenti del robot innanzitutto attenzione oggi alle 10 nuovo pezzo del robot ve lo posso confermare al 99 per cento perché c'è un algoritmo che è stato scoperto dove si è capito che ogni 48 ore viene aggiunto un pezzo di robot abbiamo un tweet importantissimo che ci svela le date e i pezzi che verranno aggiunti nei prossimi giorni a partire da oggi appunto 8 luglio lo stage numero 5 del robot il torso quindi tutta la parte del busto tutta la parte alta insomma probabilmente senza braccia e il torso del robot raga deve essere qualcosa di mastodontico ma il 10 luglio arriverà invece il bicipite sinistro quindi probabilmente tutta la parte del braccio mentre il 12 luglio arriverà il destro e il 14 luglio forearm non so arm e braccia quindi qualcosa relativo alle braccia 14 luglio sembrerebbe l'ultimo giorno ma c'è una curiosità ovviamente dove cavolo è la testa di questo robot ve ne parlo fra pochissimo ragazzi questa invece è l'immagine che vi ho anticipato all'inizio del video caricata ieri nel tardo pomeriggio in una sottocartella come vedete non si capisce bene perché ma l'immagine dice prepare for victory royale in e qua c'è il countdown questo ragazzi dovete immaginarlo probabilmente a forma di cilindro ok e sarà probabilmente anche un ologramma che potrebbe essere proiettato in cielo un po come l'ologramma che avevamo visto nell'evento della season numero 8 quello l'unvaulted event la cosa particolare è che è confermato da questo tweet che dice l'associazione che c'è tra l'immagine quella che vi ho appena fatto vedere è confermata in quanto si trova questa immagine nella sottocartella dell'evento cactus quindi ragazzi l'evento cactus sappiamo tutti che fa parte appunto dell'unico evento di questa season 9 che ovviamente ci auguriamo sia mastodontico prepariamoci perché direi che oramai ci siamo andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento e eccola qua la paperozza gigantozza ragazzi perché vi faccio vedere la paperozza gigantozza che tra l'altro in queste ore sta combattendo prepotentemente contro la gravità rimanendo in bilico sulla cascata che termina che fa terminare il fiume o meglio che lo fa nascere tra virgolette e si sta dirigendo a sponde del saccheggio molti dicono che questa papera gigante potrebbe essere la testa del robot sono solo supposizioni ragazzi ovviamente non c'è nulla di ufficiale nulla di confermato però a meno che oggi non succede qualcosa con sta papera non sappiamo bene quale sia il senso a meno che non si siano voluti divertire quelli del team di epic games e quindi ragazzi staremo a vedere se ci saranno delle associazioni con il robot e proseguiamo ragazzi con un altro argomento molto molto interessante vediamo se riesco a farvelo vedere eccolo qua il signor dai avete capito che è lui ragazzi è il signor mongral questa è una news che è uscita ieri sera intorno alle 11 circa e il signor mongral ragazzi ha lasciato il secret clan si è unito ad un clan ben più importante nel panorama mondiale di fortnite parliamo ragazzi dei phase i phase twittano da pochissime ore questo post che dice annunciamo il trasferimento del professional player di fortnite kyle mongral jackson dal team secret al phase clan dove gli fanno ovviamente tanti auguri di buon rientro e dove dicono che competerà con i phase nella world cup del 27 e 28 luglio in quanto si è qualificato sia in solo che in duo mi sembra di tradurre in questo modo c'è da dire che i phase hanno veramente creato una specie di macchina da guerra perché prima di mongral vi ricordo che avevano assoldato un altro grande campione nick merckx dopo aver perso in realtà ice sky dopo tutto il disastro che vi ricorderete mi si ubriaca le sky poi gli fanno le denunce insomma ragazzi face clan che probabilmente sarà il team da battere alle world cup che si terranno davvero tra pochissimo e non mi partono mai le slide e andiamo ragazzi col prossimo argomento eccola qua ragazzi air strike grenade questa è un'immagine francese che si chiama frappe a rien penso che si pronunci abbiamo uno spezzone di gameplay ragazzi molto interessante perché vi avevo già fatto vedere la granata è semplicemente tenuta in mano ma guardate guardate ragazzi questo è molto più interessante ve lo so ve lo faccio solo vedere non saprei commentarlo al momento guardate è molto interessante questo spezzone di gameplay perché come avete visto si sente chiaramente il rumore di un aeroplano quindi air strike grenade ed effettivamente viene lanciata da un aeroplano probabilmente che non sarà guidato da nessuno viene rilasciata e poi un'ulteriore bomba viene sganciata sono spezzoni esclusivi ragazzi che ovviamente cercheremo di approfondire il più possibile ma per adesso io vi posso tenere aggiornati con quello che scopro anche io giorno per giorno io vi ringrazio ragazzi per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao iscrivetevi al canale